Sui social c'è chi contesta che alla base del fatto, accaduto venerdì sera, ci sia stato un sentimento di razzismo da parte dei giovani marsalesi. Si è invece trattato, sostengono altri, di una lite tra ragazzi. Pare che il giovane egiziano sia stato aggredito e picchiato con calci e pugni dopo un diverbio. È stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Borsellino di Marsala, mentre sul posto sono arrivate le forze dell'ordine. Sull'episodio, intanto, è intervenuto Carmelo Miceli, responsabile della sicurezza del PD, che ha dichiarato L'ennesima aggressione ai danni di un giovane migrante nella città di Marsala non può passare nel silenzio generale. La politica tutta, in particolare l'amministrazione comunale cittadina, deve assumere una posizione pubblica durissima contro questi gesti razzisti che macchiano l'onore della città. Episodi come questi, continua Miceli, minano alla radice i valori del nostro paese, della nostra terra e delle nostre città, Marsala in particolare. Mi aspetto e chiedo al sindaco Grillo e a tutti i partiti di non avere posizioni timide, perché se un episodio di aggressione per il colore della pelle è già gravissimo di per sé, il silenzio lo è ancora di più. E non è la prima volta che su Marsala si accendono i riflettori per simili fatti di cronaca. Aggressioni apparentemente senza motivo, ma che di fondo hanno una motivazione razzista, xenofoba o omofoba. Dall'arrista del 25 agosto 2019 all'interno dell'antico mercato, dove una comitiva di ragazzi africani è stata aggredita con delle bottiglie di vetro. Passando per i più recenti episodi di razzismo della scorsa estate, se ne contano almeno tre. Insomma, una serie di episodi che hanno macchiato l'immagine di un comune, quello di Marsala, che da sempre è stato aperto all'accoglienza. Grazie.